Ma forse lo sapevo anch'io. Lui ti ama, Ruth. Ma io volevo te. Credevi? Mai. Smettila, ti prego. Senti, Ruth, è un gran pasticcio. Nessuno capisce bene quello che vuole. E alla fine c'è una tazza di tè e una lunga dormita. Grazie per il tè, Ruth. La Dio è a cuore duro di essere in ufficio domattina. Ci vediamo. Buongiorno, signor Bagnon. Buongiorno, signor Gonzales. Come vanno gli affari? Alti e bassi. Mi dica una cosa, Gonzales. L'altra notte, quando la ragazza è stata uccisa al posto mio, lei non ha visto nessuno entrare o uscire. L'ho detto al tenente. Mentre stavo uscendo, ho visto quella sedan gialla parcheggiata là pure. Una sedan gialla parcheggiata. Grazie. Grazie.